che ha pensato a questo incontro e i due temi del titolo, c'è un'unione ma non da oggi di fatto tra molte associazioni del settore che è nata fortemente nell'ultimo paio d'anni sia per condividere le soluzioni, le azioni istituzionali verso il territorio per le varie legislazioni che rendono applicato il settore del gioco regolamentato e anche poi nel periodo della pandemia per le riaperture. Quindi questa collaborazione tra associazioni c'è a livello nazionale, a livello territoriale perché tra imprese e anche diverse parti della filiera ci sono degli interessi comuni che rendono possibile questa collaborazione.